Benvenuti nel canale Juventus Oggi. Il miglior canale di notizie della Juventus su YouTube, iscriviti al canale per non perderti nessuna novità dalla Juventus. L'Atalanta è in finale della Coppa Italia dopo aver battuto la Fiorentina per 4 a 1. Uno dei responsabili del successo dell'Atalanta in Coppa Italia è Gianluca Scamacca. L'attaccante italiano, che è stato fortemente accostato alla Juventus l'estate scorsa, ha replicato un'altra stagione con buoni numeri. Lo scorso estate, Gianluca Scamacca giocava nel West M e quasi è stato acquistato dalla Juventus, ma alla fine l'italiano ha firmato con l'Atalanta. Ma ci sono ancora possibilità che Gianluca Scamacca venga alla Juventus, soprattutto in caso di vendita di Vlaovic. Quest'anno Scamacca ha già segnato 15 gol e fornito 4 assist. Dalla tua prospettiva, sarebbe un buon acquisto per l'estate.